tecniche arcaiche insegnate da Rommel 30 anni fa un po' lotto guarda, è tanto il bifo guarda Grazie a tutti Il caspetto Bello Tutto bene Oh bello Ovviamente qua scorre come delle scose nella corda Oh bello Oh bello Oh bello E' una tana a forma di culo di muffetta Mi vieni Stravello Agente 007 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti